Una scuola di un nebbio ci porta oggi in Tidime e l'entrata in suorudione una oca che so pareti aveva francato per stare a seguire per lavorare in Bastia, una situazione che ha creato problemi non trovandosi nei paesi di barbadio e patrimonio. Da Bastia fino all'entrata di Ubaesi basta un quarto ora si capisce subito l'attractività di Uloco. Da 75 abitanti in dell'anno 70, barbadio ha visto a su popolazione crischi fino a 400 a tempi dodi, tanto l'habitante a Rigonochini, Usobaesi l'annivistus cambia. Un barbadio ha visto a un francesco, un banlio di Bastia. Per cui il barbadio si è sviluppato grazie a stanzioni continuano a divastire, i presidio vondarionis plus atto con crescita della domanda, una situazione che la municipalità o l'irregula mettendo un piazza tasso di 60% durante i residenzi secondari da favorizzare installazioni all'anno. Barbadio è un ca-type. On n'est pas loin di Bastia, on è a 13 minuti dell'hospital, 14 da grande surface, etc. Quindi ci sono persone che lavorano su Bastia, che vogliono un luogo decente, c'è una domanda a barbadio. Il costo di terra, la costruzione è enorme. Non possiamo non loger queste persone che sono demandanti. Il but è che i nostri giovani puissano restare in casa. E noi speriamo che la taxe liata al flusso tendo va incitare le persone, invece di louerlo solo in season, a louerlo all'anno, per creare una nuova richiesta e una nuova dinamica. La situazione è stata in Barbadio, si ritrovano un patrimonio situato a due basi. Il patrimonio è deciso di attaccare il problema di Wondario e non sape, ciò che ne scelta va, abbiamo scontato a Jean-Baptista Renna di prima di un saluto. Salute, il patrimonio. Grazie a lui di accoglie. C'è il problema di Wondario, soprattutto, non c'è il brezzo di i casi, che con i nostri giovani, i nostri giovani che lavorano in Bastia, i casi sono abbastanza domandati, e domande forti a lui. C'è il vero, che oggi è da boi e bintani, un po' di più, non c'è un po' di più, perché non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Ci sono cercate a trovare un ragazzo, un luogo, per costruire un patrimonio in Barbadio. Il brezzo è cresciuto, non è da boi, in Gwindejani, dopo il brezzo, per due vat, perché siamo bisogni a Bastia, e di eberti a Strafar, ma che noi, come si dice, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Si può fare ancora una vendita a un cidelo di Ubaese o di Ruggione. A questo punto, abbiamo accaduto fino a un bel quartiere Ubaese a Stazzona per parlare di questi casi senza maestri che sono stati recuperati dalla merita per luttare contro la crescita dei prezzi dell'immobiliare. Io penso che, inaspettando l'avanzata instituzionale e forse, esperi, d'umano, di residenti, che è di una maniera di controllare quali che compriano i nostri paesi in corsi perché ci sono tutte le mie regione ci sono assai assai senza maestri che possono, domani, esse dadi a Tideli corsi a Gianni Goppi che è un creatore per mantenere i nostri paesi. a Gianni Goppi a Gianni Goppi a Gianni Goppi a Gianni Goppi so io che mi ringrazio.